L'istruzione, la scuola per noi è l'infrastruttura principale del paese. Trasformiamo tutte le idee che abbiamo raccolto in proposte di legge, in attività parlamentare. Siamo nelle condizioni di far fare all'Italia un passo avanti straordinario. Essere donne libere! Vivere un'esperienza davvero garantista. PNRR. 200 miliardi. Jobs Act, Unioni Civili, Family Act, Piano Shock, sono tutti partiti da qui. La nuova generazione dei 5 e della generazione 26. L'ambiente, la giustizia sociale, i diritti sono trend universali rispetto ai quali non ci si oppone. Benvenuti a Firenze anzitutto. Sindaco del fare, forse perché non so, da qualche parte ci sono dei sindaci che non fanno. Da riformista che cosa vi dico? Che noi dobbiamo portare a casa questa legge perché è meglio una legge imperfetta che nessuna legge. Alla Leopolda abbiamo sempre lavorato per trovare gli accordi, i compromessi. Non c'è consonanza tra il paese e la giustizia. La verità è che non c'è mai stato un finanziamento illecito alla politica da parte nostra. La verità è che si vuole processarci perché abbiamo fatto politica.